Bene, e allora a questo punto, sempre restando in tema di magia, dovete sapere che io e Renato abbiamo contattato i più bravi maghi internazionali e ci hanno dato il grande onore di inviarci dei video in esclusiva per questo programma. Ed ora andiamo a vedere un video di un ragazzo che viene dall'America, lui è del Texas, si chiama Lamont McGee e ha preparato per noi un numero eccezionale. Quindi è il momento della rubrica La magia dal mondo. La magia dal mondo. La magia dal mondo. La magia dal mondo.